Grazie, grazie, grazie. Allora, partiamo subito. Intanto volevo sapere, mi dicono sempre quelli bravi, chiedono per alzata di mano quanti sviluppatori sono nella sala. Ah però, quanti web designer ho giù di lì? Ok. Ok, alzi la mano ed è l'ultima volta. Chi è capace di alzare la mano? Così? Molti meno, ma sì, ci sta come numero. Allora, iniziamo. Non so se avete sentito questa frase, Gutenberg è il futuro di WordPress. Quando sento la parola futuro, la prendo sempre con le molle, perché c'è chi la usa a sproposito. E quindi bisogna capire, il modo classico per capire cos'è il futuro è andare a vedere la roadmap dei prodotti. Quello che è stato fatto, quello che è il presente di fatto, perché il qui e ora è più importante del futuro. È quello che verrà fatto. Infatti, se andate nel sito di WordPress, c'è la roadmap del progetto e vedete che nella prima fase che è stata completata è stato introdotto il block editor, chiamato Gutenberg, appunto, e la seconda fase è in via di conclusione, nel 2019, poi ci saranno altre due fasi, almeno in previsione. Vi sarete trovati in quel momento in cui dovete scegliere tra pillola rossa e pillola blu, insomma, di dover installare. Quanti di voi hanno mantenuto il classico editor? Un buon numero. Un po' per l'effetto nostalgia, no? Comunque JQuery è la libreria di user interface più utilizzata da sempre, TNMCA è l'editor che c'era anche in passato, e alcuni hanno fatto il fork, cioè hanno clonato il progetto di WordPress e hanno fatto Classic Press. Io li divido tra progressisti e conservatori, ma c'è un fondo di verità. Sappiamo che JavaScript è strano, ok? Strano oppure semplicemente c'è una bassa conoscenza di JavaScript e PHP in accoppiata con lo stack tecnologico ha pure metodi magici chiamati, quindi siamo in buona compagnia. Il rischio è quello, se non si studia, è quello di fare la fine della rana bollita. Chi non conosce la metafora significa che se la rana salta e l'acqua è già bollente, salta subito fuori, ma come è stato per i grandi cambiamenti, cioè dal 2015 già Matt Mullenweg, il CEO di Automatica, l'azienda che sta dietro WordPress, ci diceva di studiare JavaScript, perché il mondo moderno dello sviluppo, il nuovo approccio, è quello che nel front-end c'è principalmente JavaScript. Quindi, se invece voi in questa gradualità non l'avete avvertita, o non l'avete presa troppo in considerazione col tempo, da oltre cinque anni, fate la fine della rana bollita, cioè siate, diciamo così, di fronte allo sviluppo front-end andate molto più a rilento, perché JavaScript è ineluttabile. Significa che Jeff Adwood, che è co-founder di Stack Overflow, la piattaforma dove fate domande tecniche, diceva che se un'applicazione sarebbe potuta essere scritta in JavaScript, verrà scritta in JavaScript. Cosa porta a non voler affrontare JavaScript in particolare? Quella che viene chiamata JavaScript fatigue, perché nello sviluppo moderno abbiamo tanti tool, in realtà, a contorno, che ricalcono un po' quello che è stato per lo sviluppo del back-end, e cioè Package Manager, Transpiler, che servono semplicemente uno su tutti, Babel, che serve per, vedremo dopo, per la compatibilità con i vari browser, i Model Bundler, uno su tutti, sempre Webpack, perché uno su tutti, dico sempre, perché si vanno a stabilire alla fine degli standard più utilizzati, anche le soluzioni più stabili, di fatto. E ci sono un sacco di librerie, perché io vengo dal mondo dello sviluppo di back-end, lì avevamo centinaia o migliaia di librerie, adesso ne abbiamo tantissime nel mondo Node, dal 2010 in poi. Questa fatica viene semplificata da WordPress perché è introdotto WPScript, che in qualche modo vi nasconde un po' la complessità sotto il cofano, vi lascia dei preset per i vari Babel, per i vari Webpack, e diciamo che in sintesi per il lazy developer, non vi sforza a capire cosa c'è dietro, anche se la differenza tra un buon sviluppatore e un meno buono, diciamo così, è proprio andare ad aprire quel cofano e capire cosa c'è dietro. Perché ricordate una cosa, il lavoro che noi facciamo è di knowledge worker, lo sviluppo è un processo di apprendimento, il codice che mi viene fuori è solo un side effect. Quindi dovete chiedervi che lavoro voglio fare. Se volete fare lo sviluppatore, siete dei knowledge worker, dovete studiare e abbracciare il cambiamento. Ritorniamo al browser e alla compatibilità. Io, dopo nella slide successiva, ve lo anticipo, parlo di zucchero sintattico, quando mi chiedono cosa è cambiato nello sviluppo software in questi ultimi anni, io dico sempre è cambiato ben poco. Ma ovviamente i browser non sono tutti compatibili con ES6 e successivi. Quindi i principali sono compatibili con ES5. Questo significa che sono state introdotte tutte uno strato e di funzionalità che sono molto utili per scrivere un codice più leggibile, più manutenibile, ma in realtà siamo nell'area dello zucchero sintattico. potremmo scrivere in questo modo che vedete qui a destra il codice perché alla fine WordPress non si è inventato niente, ha preso React, se l'è brappato, cioè l'ha portato all'interno del suo progetto, l'ha astratto con le sue API, ma in realtà noi potremmo scrivere benissimo qualsiasi componente in questo modo che è ES5 oppure preferiamo scriverlo in JSX. In realtà quello è JavaScript che però è HTML-like, XML-like e quindi per noi è più leggibile poterlo scrivere così. Provate ad avere per ogni nodo un elemento nuovo e dover gestire un qualcosa di usiverboso. Il mio ambiente qual è? Molti di voi useranno XAMPP, MAMPP, Compagnia Bella, Flywheel come ambiente. Io preferisco e indico di usare Docker. Perché? Perché potete tirar su la vostra istanza, potete passare l'immagine a qualcun altro che lavora con voi, semplicemente la solleva, cioè la manda in running e ha tutto l'ambiente già configurato. Non si può node ovviamente everywhere. Composer per le dipendenze in PHP. Io uso Visual Studio Code ma qualsiasi editor in cui avete dato completamente moderni quello che nel back-end è sempre stato un integrated development environment, un IDE e con i vostri boilerplate, con i vostri snippet. Git perché ovviamente ancora vedo altri sistemi di versionamento ma Git è lo standard de facto. Allora, qui nel titolo della slide ho usato un principio agile, qualcuno conosce il manifesto agile? Ok, timidi, timidi ma qualcuno c'è. Che dice working software over comprehensive documentation significa che andiamo a vedere direttamente il codice, così si impara a sviluppare software non leggendosi chissà quanta documentazione. C'è l'endbook del block editor, il primo link dove partite con i tutorial. I tutorial vi spiegano un po' le basi. Il secondo link subito che vi invita all'endbook stesso è andare sui Gutenberg examples. Andate subito su SNXT cioè la versione ES6 successivi di JavaScript perché non credo in futuro verrà scritto e se andate a vedere le core library non sono scritte nella versione precedente. I Gutenberg examples vi fanno esempi molto banali ma vi incominciano a far entrare nella logica dei blocchi che alla fine abbiamo detto è React style. Subito dopo il passo è abbastanza un bel salto perché nei package del block library sono quelli che sono già i blocchi presenti nel core quindi andate alzate il livello per capirlo e alla fine e vedremo a breve ci sono tantissime librerie di terze parti che hanno creato i blocchi per voi qual è lo starter kit come abbiamo detto prima quando parlavo della javascript c'è vpscript che non è altro che anche qui un wrapper di react script con i vari preset e quant'altro in alternativa create gutenberg questi servono sono dei tool da riga di comando con node è molto facile crearli che servono semplicemente per avviare per fare il loader e quant'altro di tutti i componenti o vp.cl io non lo consiglio vp.cl poi se c'è qualcuno esperto di vp.cl in sala poi mi dirà però più che fare lo scaffolding cioè creare tutta la struttura del file system del progetto non mi sembra che ti dia poi tutti questi vantaggi ad utilizzarlo a meno che tu non lo voglia personalizzare allora voi dovete pensare a gutenberg come due sistemi separati uno è di front end gutenberg che può vivere di sua natura un'applicazione javascript di fatto e dietro wordpress che è back end as a service quello che dico sempre è che wordpress sta diventando idless cms sta esponendo le sue api a me non interessa che dietro ci sia wordpress un altro cms siamo cms agnostic però per comunicare questi due mondi fanno una registrazione del blocco prendendolo nelle varie librerie che wordpress ha scritto in javascript e lato client significa creare un file javascript tu registri un blocco quello che gli devi dare questo è un esempio dai gutenberg examples il namespace e il nome del blocco in questo caso rispettivamente gutenberg examples e examples01 basic s next siamo molto descrittivi nei nomi dei blocchi comunque per dire che questo deve essere univoco all'interno del sistema poi ci sono varie proprietà il titolo l'icone da dash icon oppure dovete definirle voi una ma la cosa interessante qui è che dovete vedere ormai wordpress come un framework non più come un cms cioè i framework sono quelle cose che vi dicono loro come dovete scrivere il codice vi danno loro le regole edit e save sono due funzioni la prima quando entrate in amministrazione in fase di editing viene invocata quella quando invece andate a salvare o andate nella visualizzazione del front end come utenti viene caricata questa parte qui lato server side wordpress deve sapere che esiste questo blocco quindi dovete ripetere il namespace il nome del blocco dirgli come sempre wordpress per caricare dei javascript dei stili dei css e quant'altro dovete sempre indicarli prima codarli registrarli e poi con register block type che per fantasia dalla camel case lo scrivete con gli underscore dovete caricare lo style che è la proprietà che è lo stile che viene caricato nel front end l'editor style se volete in qualche modo che lo stile sia differente in fase di editing di amministrazione e infine la parte di script che deve essere caricata per la gestione dell'editing del blocco allora chi viene da react qualcuno viene da react qua? wow quasi nessuno orgogliosamente però sollevano la mano benissimo ci sono le props cioè se sono dovete pensare al blocco immaginate un blocco che abbia un'immagine con una scritta ok l'immagine è un attributo perché io devo caricare l'uri l'url per quell'immagine il testo che sta in sovraimpressione dell'immagine ovviamente è un testo che sarà salvato da qualche parte per ricreare quel blocco gli attributi hanno questo parametro type questo ad esempio è un attributo di un blocco il blocco dovete immaginarlo come un oggetto javascript e quel blocco ha un suo stato un suo stato che tiene in memoria questo number attribute e text attribute sono rispettivamente di tipo number e string vuol dire che quando voi salvate serializzate nel database la situazione lo stato del blocco e avete assegnato a text attribute un valore come detto ad esempio per originalità il wordpress deve salvarlo in un contenitore che ospita html quindi per mettere questa informazione sotto forma di oggetto javascript va a serializzare il json all'interno di un commento e c'è anche qui wordpress non si è inventato niente c'è una libreria hpq che dopo vi lascio il link che va a parsare quello che è presente in post content dentro il database parentesi ovviamente siete quasi tutti sviluppatori però la tabella wp post all'interno del database c'è un campo che si chiama post content dove c'è tutto il contenuto del post e all'interno ogni blocco avrà dedicato e sarà contenuto all'interno di commenti ma cosa succede se io invece voglio andare a recuperare un blocco che contiene come l'uri di un'immagine non avremo solo il type che indica il testo che segnala l'url ma avremo anche l'attributo source che deve dire a hpq nelle retrovie di dire guarda che mi devi andare a recuperare un attributo quell'attributo lo trovi perché è contenuto in un oggetto che ha come classe myimage e l'attributo è il nome dell'attributo src ecco quello che fa cioè dentro il post content c'è questo qui lui va a vedere va col selettore a trovare myimage poi va a recuperare nell'attributo src questa stringa questa stringa viene caricata in fase di editing per visualizzare l'immagine stessa allora qual è la reference per studiare gli attributi allora l'handbook non è così ricco ancora forse nei contributor day ci si può lavorare questo il primo link è l'hpq quella che vi dicevo la libreria che fa lo sporco lavoro per wordpress cioè va a parsare cioè significa scansionare nel database e va a recuperare i blocchi i block attribute questo è l'handbook il secondo link dove trovare tutte le informazioni sui block attribute e l'ultimo secondo me è un bell'articolo perché spiega quello che dovrebbe spiegare probabilmente l'handbook sugli attributi il processo qual è il processo che nel mondo dell'informatica c'è la serializzazione e la deserializzazione significa che voi avete un post il post è un insieme di blocchi una lista di blocchi questi blocchi ognuno ha il suo stato cioè i suoi attributi le sue proprietà che lo caratterizzano quindi voi avete uno stato del post quando salvate serializzate cioè andate a vedere quello che vi ho fatto vedere prima nei commenti viene salvato se invece se è un source può essere salvato all'interno dei commenti in post content poi hpq va a parsare per voi questo contenuto in post content crea i suoi block attribute e riporta lo stato in fase di editing e quindi viene invocata la famosa funzione di edit che vedevamo prima con le blocchi API potete gestire tutta la situazione e vederne la parte visual editor la cosa importante da capire è che serializzato avete in post content tutte le informazioni relative ai blocchi cosa fa? WordPress per voi porta in memoria l'oggetto che rappresenta il blocco l'oggetto in javascript che voi potete manipolare e utilizzare su Gutenberg c'è da dire che possiamo fare blocchi statici possiamo mettere tutto dentro save quando salviamo però quello che potete fare nel save restituire null e dire vabbè sposto tutta la parte di rendering del blocco nella parte php per farlo quando nel server side nel codice c'è la registrazione del blocco voi chiamate la render callback e di fatto questo è un nome lunghissimo sempre degli esempi di Gutenberg examples andate a prendere questa funzione e lì costruite il rendering del vostro blocco anche perché se e dico se no è così lo assicuro se andate a modificare un blocco un blocco nella fase di save cosa fa WordPress quando carica il blocco va a vedere in post content qual è il contenuto che dovrebbe renderizzare sul browser va a vedere quello che compone con save e dice aspetta non è più lo stesso blocco è disallineato quindi c'è una fase di validazione che dice che non vi riconosce in fase di editing il blocco stesso se lo spostate invece in PHP questo meccanismo di validazione salta dove trovare i blocchi in realtà è dove non trovarli perché c'è una proliferazione il problema non è tanto trovare i blocchi o farne di propri il problema è che i blocchi non è così facile utilizzarli l'altro giorno ero al meetup di Torino e abbiamo detto ormai WordPress è uno strumento per web design per utenti finali perché dovete mettere mano molto al CSS quindi se li dovete usare tenete in considerazione di usare quelli in cui c'è anche la gestione del layout altrimenti è anche nell'eventualità che c'è non è poi così semplice fare diciamo così qualcosa di non lineare e di blocchi sovrapposti la cosa interessante è cloud blocks cioè immaginate che la tendenza adesso è di andare tutto sul cloud e di usare le content delivery network significa che voi i blocchi potete che in questo momento vengono messi all'interno di un plugin e installati poi vedremo che sta arrivando la block directory però potete mettere una cdn e coblocks intelligentemente fa questo plugin che in realtà si va a chiamare la cdn dove scarica gli asset tra cui i blocchi che gli servono quindi immaginate in un futuro prossimo se non adesso che potete caricare i vostri asset i vostri blocchi sul cloud e recuperarli con la vostra cdn questo è il mercato cioè gli hosting services hanno incominciato ad accapparrarsi WP Engine Atomic Blocks Godaddy acquisito coblocks e sta nascendo la block directory quindi dal punto di vista di opportunità di business significa che oltre template e plugin ci sarà la possibilità di blocchi premium Gutenberg è un'applicazione abbiamo detto il frontend si sta allontanando dal backend WordPress sta diventando sempre più backend as a service e Gutenberg essendo un'applicazione javascript la potete associare a qualsiasi altro cms che ce l'ha fuori Gutenberg ha aperto il suo progetto scusate Drupal le strong ideas che ci sono qua così cerchiamo anche di lasciare più spazio possibile alle domande spero che ce ne siano che i pacchetti node stanno andando sul cloud che il frontend sta diventando cms agnostic che gli interessa che cms c'è dietro chiamo le mie API hai esposto le rest API o adesso le GraphQL io vedo semplicemente un repository di dati che mi espone un'interfaccia il marketplace dei blocchi premium starà a venire c'è una stessificazione di WordPress se avete visto Google sta facendo un verticale sulle news tra cui è diventato anche main sponsor e ricordiamo che Google è passato con AMP ad essere semplicemente un modo per rendere il mobile più veloce così ha detta di loro a fare di AMP un framework un framework e la mia idea è proprio quella che il browser sarà la piattaforma del futuro i cms sono dei meta framework ci dicono come possiamo lavorare e ci agebrano quel lavoro ma la realtà di fatto è che ogni due settimane stanno aumentando le API sul browser e significa che di fatto noi possiamo scrivere nella nostra applicazione javascript di front end e interfacciarsi col browser stesso con questo vi lascio alle domande questi alcuni link il podcast le slide la newsletter gli eventi dove sono sono aperto in largo anticipo giusto alle domande grazie grazie